FLC CGL siamo in piazza anche oggi a fianco degli specializzanti dell'ottavo ciclo del TFA Sostegno per chiedere le assunzioni da GPS anche per quest'anno e soprattutto anche per dire no alla conferma del supplente a cura delle famiglie. La continuità didattica va garantita con le assunzioni a tempo indeterminato, non con il permanere di una condizione di precariato, di lavoro precario che debba sottostare a dei criteri di reclutamento non oggettivi come le graduatorie rispetto del punteggio. Siamo gli insegnanti specializzanti di scienza formazione primaria e di altri ordini e gradi. Siamo qui oggi sotto il Ministero per ribadire per la seconda volta, siamo stati già in piazza il 4 marzo, che abbiamo necessità di essere riconosciuti e chiediamo un contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la continuità didattica degli alunni che seguiamo nelle scuole. Le proposte al momento che sono state messe sul tavolo non ci convincono. La continuità didattica deve passare attraverso l'assunzione o la messa a bando di posti per il sostegno. Solo attraverso un concorso o il riconoscimento di un percorso di specializzazione sul sostegno, cosa che noi stiamo facendo con tanti sacrifici sia economici sia di tempo, noi possiamo garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. Chiediamo soltanto di essere ascoltati e vogliamo che il Ministero prenda atto del fatto che c'è un bacino di insegnanti specializzati e dall'altro ci sia la necessità di inserire persone qualificate all'interno delle scuole, proprio perché la necessità è alta e urgente. Con il mio collega facciamo parte del coordinamento dei docenti specializzanti e specializzati per le attività di sostegno. Oggi, come il mio collega ha appena detto, siamo qui per la seconda volta dal 6 di marzo e siamo qui anche in rappresentanza di altri Atenei italiani, perché ci siamo uniti in una rete e lottiamo tutti insieme per vedere riconosciuta la nostra professionalità, che è l'unico metodo per assicurare la continuità educativa e didattica. Oggi organizzeremo un flash mob per ribadire la nostra volontà, la nostra determinazione e abbiamo uno slogan. Sono insegnanti specializzati in Italia, assurdi, compliteri, trasparenti e non discrezionali possono assicurare un'efficacia continuità didattica ed educativa.